Musica Ciao a tutti ragazzi sono Marty Viglie e oggi siamo in un nuovo video Oggi ragazzi giocheremo a The Very Organized Thief Da quanto che non lo portevamo finalmente rigiochiamo a questo bellissimo gioco Prima di iniziare vorrei salutare dei miei amici che si chiamano Andrea, Andrei, Sparker Carolina e Chiara Ciao Adesso partiamo subito The Very Organized Thief Perfetto ragazzi siamo partiti subito Adesso vediamo cosa fare Non mi ricordo i tasti porca miseria Profumba Chitarra Ok non mi ricordo i tasti porca miseria Chitarra sarà sopra Profumo Ok 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 Non mi ricordo i tasti raga Sarà davvero difficile Apri E' così che si apre E' davvero difficile raga Me lo devo ricordare porca miseria Mi devo ricordare i tasti Allora qua Qua c'è il braccialetto No Gioia di box Sì Qua Ci stanno i soldi però No profumo Poi qui Rarv Ok Il vino Il vino Il vino profumato Poi Mobile phone Sarà un botto difficile Eccolo E non è difficile Poi Cosa Cos'altro Poi Bicicletta DVD player Bicicletta DVD player Andiamo 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 Su DVD player DVD player Sì Esatto Poi Poi cos'altro c'è Golden bar Chitarra Intanto c'è la chitarra da prendere Che io qui non trovo E quindi non trovo la chitarra Porca miseria Adesso allora devo solo fare i golden bar Salute Salute Devo trovare la chiave Ed eccola qui Office key Eccola mezzanotte Cavolo Cavolo mezzanotte Mezzanotte E la chitarra non ce l'abbiamo 9 8 5 4 9 8 5 4 9 8 5 4 Perfetto Oh Aperta Raga Non abbiamo la chitarra Ma chi se ne frega Abbiamo i golden bar Ci manca la chitarra però Cioè Io in questi momenti La vorrei trovare Eh sì E appunto La chitarra non la trovo Cavoli La chitarra non l'ho trovata Cavolo la chitarra Raga dai Era solo questo e l'avevamo vinto Guardate E da tanto Ah no Anche il profumo bat Ah ok Anche il profumo Porca miseria Abbiamo perso Porca miseria Escape Eh ma abbiamo perso in questo tiro Eh molto perso Eh che cavo Eh beh pensavo di più 3 minuti e 5 secondi Professional tip Grazie mille Sono un professionale Barbecue Ecco la chitarra Non posso prendere appunto Eh barbecue 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 Poi Ah quadro della signora Ciao signora Ciao signora Ciao signora Di nuovo Ehm Tablet Eh oh mio dio Tablet 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 Office key Intanto Il tablet Mettono le cose Che poi Non c'è sta Tablet Eh braccialetto Che adesso Non ci sarà più Appunto Spostano le cose Proprio quando Cioè L'abbiamo aperto Perfetto Ehm Porca miseria Ragazza Sono i soldi Ah eccolo Tablet Perfetto Poi Cos'altro Braccialetto Che non lo troverò mai Il braccialetto Digital camera Mi serve Braccialetto Qua non c'è Allora braccialetto Siamo un altro Che non riusciamo Eh Game console Yes TV no Eh Golden bar Statua E golden bar Perfetto Statua E golden bar Quindi Iniziamo Golden bar No E statua Volevo dire Statua Eccola Statua E adesso Passiamo E golden bar Abbiamo finito Però non abbiamo trovato Il braccialetto 4 6 7 4 4 Open 4 6 7 4 4 6 7 4 Perfetto Prendi tutto Prendi tutto E scappiamocela Vai Aspetta Braccialetto Per favore Almeno Cioè Per favore No niente Allora scappiamo Scappiamo Non posso uscire Perché non ho tutto Forse qua No Vabbè Andiamo Andiamocene via Facciamo tutto Però Già che ci sono Ho visto che non è arrivato Direi di Mi sbagliavo È arrivato Zì Mi è arrivato C'è un piede di porco Wow Un piede di porco È un originale Vabbè Basta Basta Non ci voglio più Ok Vediamo Se riusciamo Vai Vai Ah Porca miseria Ce l'abbiamo fatta 3 minuti e 0 secondi Sono un professional Raga Non ci gioco da botto Cioè È normale Che sono un professionale Va bene ragazzi Se questo video vi sia piaciuto Spolliciate Iscrivetevi Attivate la campanellina E Condividete il video Arriviamo a 10 like E ci vediamo Un prossimo video Ciao